Adesso? Sì, vabbè, è comparsa la rampa dall'altra parte Oh no! Velocissimo! Corri, devi stare rapidissimo, su, ce la puoi fare? Corri, gambetta di legno! Ce la puoi fare! Corri, gambetta di legno! Ci sei a livello di tempo, vai! Ok, sta andando lui a premere il verde? Sì! Prenditi quella rampa? Ok! Vai, è fatta, è fatta, non puoi sbagliare! Ok, 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 sì! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stef E questo è Giulio che mi ha Roblox E andiamo subito a salutare i nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Margherita, Antonio, Marcus Vegas, Killez, Andrea e Jackie Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione Vi ricordiamo che anche nell'altro saranno salutati altri sei eroi Eccoci qua, io non ho parole ragazzi Cinque minuti fa abbiamo avvertito dentro al gioco che stavamo per prendere un server Siamo su Flood Escapes e guardate quanti consolini ci sono già Conquistiamo tutti i server ormai È una cosa incredibile ragazzi, grazie mille per partecipare È molto! Siamo già un'ordata di gente Allora, oggi che cos'è? Praticamente è un minigioco che si basa sempre sul parkour Ma come funziona? Praticamente noi partiamo Dopo qualche secondo il pavimento inizierà ad annagarsi d'acqua Se noi rimaniamo sull'acqua, moriamo Ovviamente Salire verso l'altro, arrivare all'uscita L'alto L'altro Ho detto altro Sì, salire verso l'alto Trovare l'uscita tra i vari ostacoli Quindi diciamo parkourizzare ed evitare di morire annegati Insomma, queste in poche parole Esattamente, se si riescono a finire una cosa come quattro livelli si vince Si può vincere anche più di uno Quindi non è una gara tra di noi Ma è proprio una gara contro le mappe E dire di iniziare Siamo pronti a morire Che dici? Assolutamente, assolutamente Siamo tantissimi, è bellissima Scriviamo i chat Andiamo! È bellissima, è bellissima Cioè, noi prima siamo entrati in Flood Escape per provarla Abbiamo invaso il server Non lo so se fossero anche inglesi Non so come è possibile questa cosa Siamo entrati in tantissimi E ho detto, dai, proviamo a prendere un server Si è riempito pure quello, è bellissimo Allora, partiamo dall'easy Vieni, vieni, vieni Tutti su easy Invadiamo Ci staremo tutti, non lo so, non lo so Credo che se entriamo tutti in contemporanea Ok, no Penso che abbiano un limite Però vabbè, dai, piano piano cercheremo di esserci tutti Su, prontissimi Concentratissimi Allora, saliamo Bisogna stare molto attenti a non saltare Quando salta un'altra persona Perché altrimenti si rischia di cascare Quindi Assolutamente Infatti devi essere non solo concentrato per il parkour Oh, vado a premere il tasto che non l'ha fatto nessuno Ma sicura? Guarda che se il rosto è già premuto Ah, scusami, scusami Mi sono confusa Mi sa che per questa cosa creperai, vero? No, guarda, sono già qui Aiuto Signor maialino non ti dà una mano quando c'è il parkour Signor maialino vola Non ha bisogno di fare parkour Mi dispiace Per guardarti ho rischiato tantissimo No, sto dietro di te Non ti preoccupare Tu vuoi dritto Non pensare a me Ce la faccio uguale Abbiamo davanti Michelle E poi chi altro ce l'ha fatta Allora, vedo un momi Ce l'ho fatta E vedo croquet Ok, siamo rimasti solo in cinque Allora, io ho premuto un primo bottone Poi c'è quello verde da premere Non lo faccio io Mi confondo con i colori dei bottoni Vai tutto su Vai tutto su Non faccio più nulla, guarda Non faccio più nulla Che ho paura di perdere tempo E sei morto Sono morto Oddio, ma nessuno l'ha premuto Che si fa? Qualcuno deve andare Ok, vai dentro Ok, ce l'ho fatta Non capisco dove devo andare Oh, finalmente ti vedo Finalmente ti vedo Segui momi Segui momi Segui momi Mi sembra che abbia capito Aspetta che prema lui il tasto Vai, premilo tu Premilo tu E vai, mi sacrifico io Che devo fare? Aiuto Lì, 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 vedi Ok Brava, vacci Ok, adesso momi preme quel tasto Ok, vai momi Vai verso sinistra Vado qua? Sì, 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 sì Ok, grazie per le dritte Adesso cadrò all'ultimo No, ce l'ho fatta Ok, vedi Sono morto Però almeno ti ho dato una mano Vai, ci siete ancora entrambi Uh, caduti di sotto Ok, che si fa? Ah, c'è quello della scienza Dovete riuscire, credo A premere tutti i bottoni Per far aprire la porta Io questa cosa non l'ho mai capita Non so come si fa Non l'ho mai capita in vita mia Non so come si fa Uh, vai, 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 vai Si è aperta? Che succede? Si vendele nel vuoto Ok Ce l'ho fatta? Ho vinto Sì E ti vorrei dire una cosa Anzi, te lo dice signor maialino Ho lo spazio nella tastiera che si blocca E sono riuscito comunque a batterti Col tasto bloccato Quindi vorrei far notare questa cosa Uh, uh, uh Concentrati Questo è il medium Forza, forza Già l'isi è complicato Qua le cose si fanno davvero Allora, quando ti saltano tutti inizia a volare Non si capisce più nulla Infatti Allora, calmi ragazzi Purtroppo sono caduto proprio per quel motivo Uno alla volta Dove dobbiamo andare? Non l'ho capito Tu l'hai capito? Ah, sì Qui sopra Salta così e poi qua Ok, ci sono, ci sono Sono dietro di te E poi uno deve andare a premere il bottone Ok, si è sacrificato lui Salta Aspetta, aspetta Che ho porra di prendere Ok, brava, brava, brava Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta Primo l'abbiamo superato Poi c'è Eterna Love Crocaini E il pixel Crocaini Non so perché non si lo sa dire Crocaini Non so perché vedo anche una N Quello che mi complica tutto Vabbè dai, tanto siamo tutti i consolini Quindi che vinca il migliore Anzi, che vincono i migliori Esatto, perché possiamo vincere in tanti Vieni qua Ok, arriva Ok, c'è pure un bottone da premere Compare una piattaforma qua Saltiamo Dai, 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 dai Che stiamo andando bene questa volta Dai, dai Che ce la stiamo facendo tutti E' comparsa una rampa Ok, ok, sulla rampa E ora? Che ansia, che ansia Ora è difficilissimo Guarda quanta strada dobbiamo fare Perché la cosa difficile è proprio Premere i bottoni E capire che strada appare E tu sei cascato di sotto Sei cascato di sotto E adesso dove vado? Ah, questo è scuro Non lo vedevo E adesso? Sì, vabbè Mi sa che siete morti tutti e basta Aiuto, dove si va? Non l'ho trovato Torniamo sull'easy Easy, easy, easy Perché ho capito che per il medium Ci serve ancora un po' di allenamento Un po' di allenamento in easy E poi torniamo in medium Proviamo a vincere almeno un altro easy Allora Da qua saliamo Poi qui Uh, mi hanno fatto volare Aiuto Fai attenzione Fai attenzione Fai attenzione perché è facile Uh, non saltate sulla mia testa però Aiuto Le cose difficili sono stare attenti agli altri E allo stesso tempo capire la strada Stare attenti alla mappa Perché alla fine Ah, c'era un cosa da saltare E tu non l'hai visto? Già Oh no È andata proprio in quel modo Uffa Sto visto morendo Ho notato Ho notato Stai facendo un po' schifo Lo dice il signor Maialina Di solito sono bravo E invece oggi muoio sempre Nel frattempo penso che abbiamo fullato il server Io vorrei dire questa cosa Siamo tantissimi consulini Io voglio contarli e salutarli tutti Perché davvero siamo tantissimi Allora abbiamo Elfixle Ferri e Niki Perché ci contiamo anche noi Steph Momi Anto Black Canary Eternal Love Hero Ilari Croqueti Leggkin Madison Michelle Mickey Miriana Nicole Selly Serperior Serperior Bravissimo Gli hai messi tutti velocissimi Credo che siano 15 Perché non sono riusciti a contarli Non troppi Sono tantissimi È bellissima questa cosa È bellissima poter giocare tutti assieme Quale facciamo? Dai 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 Proviamo un hard Dai Proviamo un hard Diretti verso l'hard Andiamo a morire So 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 Poi ci seguono tutti i temerari Senza capire Che di fatto stiamo andando proprio a crepare malamente Che cos'è questa mappa? Beh ma è così dai Le mappe sono difficili Bisogna tentarsela Io sono già calcato Già caduto Ma oggi stai dando il peggio di te Io non so per quale motivo Che poi io perdo sempre Invece sto facendo meglio di te Il signor maialino Il signor maialino Perché lui vola È capito Dalla spalla Mi sta aiutando a fare il meglio No ma poi mi distrae Oh vieni 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 Hanno già aperto Oh Ho seguito qualcuno sbagliato Ecco qua Perfetto Quando vedi un bottone Se vedi uno che ci va Girati dalla parte opposta Allora Il fatto è che a volte Ho talmente tante persone davanti Che non capisco Che davanti a me Ho un bottone Quindi seguo Per cercare di fare la strada migliore Invece magari stavano facendo il bottone Il primo art è stato easy Sì Non so perché Ma dobbiamo salire da qua Meno male che qualcuno l'ha notato Perché Guarda io stavo andando dritta E ora? No ragazzi Non si vede nulla Non vedo nulla Ci siamo tutti Saltate da qualche parte ragazzi Fate qualcosa Io sto qua fermo Che devo fare? Aiutami Aiuto Secondo te dove dobbiamo andare? Arriva l'acqua Dove dobbiamo andare? Siamo morti e basta Arrenditi Ci ho provato Ci ho provato ad andare in quella pedana lì Dove si va? Non lo so Io te lo dico Voglio provare ad andare di sotto Allora lo scrivo Andiamo di sotto tutti Andiamo a vedere cosa c'è È bloccato No 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 Da qua ci sono le scale È bloccato Ah no Aspetta Credo che sia l'extreme Che sblocchi solo Se riesci A vincere otto volte Ma non abbiamo mai vinto otto volte Cioè che scarsi Esatto E poi qua Qua c'è la classifica Esploriamo Esploriamo No vedi ci sono passaggi strani Che cos'è? Cos'è questo? E poi entrano tutti Che ci facciamo qua? Non lo so È un posto strano Single player dice Ah forse per provarselo da soli No 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 Andiamo via Andiamo via Torniamo indietro Torniamo indietro Cerchiamo di sbloccare le stream L'extreme Sarà difficile E il retro che cos'è? Il retro cosa? Qua 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 Vedi che c'è il retro? Teleporto a another place Vediamo E che cos'è? Sure Let's go No io non ci sono andata Che cos'è? Vieni Dove siamo finiti? È un posto strano Dove siamo Che cos'è? Non lo so Vedi che Ma anche prima c'era qualcosa da fare Che non abbiamo capito Sono i vecchi livelli probabilmente della mappa Stiamo vedendo qualcosa di vecchio No vabbè Sì sì sono i vecchi Vedi che anche le texture sono molto più Più grese Sì ma perché sei scesa? Perché mi hai fatto cadere Solo per quello Sono caduto No vabbè usci Mi prego Torniamo indietro Ho bisogno di scappare da questa cosa Come Allora Ok Abbiamo ufficialmente Buggato tutto No non è che abbiamo buggato tutto Sei entrato in un posto dove non dovevi entrare Tutto lì Volevo curiosare Tutto lì Allora Cosa facciamo Dai 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 Lasciamo perdere gli altri livelli Ci hanno seguito tutti ragazzi C'è ancora qualcuno incontrato lì Infatti stanno piano piano tornando nel server Abbiamo Abbiamo fatto buggare il gioco a tutti Esatto Andiamo su medium Dai Allora l'obiettivo di oggi è Finire un altro easy Finire un medium E l'hard No E provare a fare un hard Mettiamola così No dai Non ce la possiamo fare Allora Dove dobbiamo andare? Penso qua Io sto già seguendo Ok Sì 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 Brava Aiuto 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 Quando salgono tutti ti fanno Poi qua a sinistra Salti E poi qui Aiuto Guardanto È rimasto No sono caduta di sotto io No 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 Ce la devo fare Ce la devo fare Aiuto Dove sei? Non ti vedo Non ti vedo Sto correndo come una matta Ti vedo ti vedo Corri Ce la posso fare Sì ce la fai ce la fai ce la fai Con calma adesso Ce la posso fare Con calma con calma Ce la fai ce la fai ce la fai Aiuto Vieni 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 Oh mio dio Mi sono salvata in corner Spero Aspetta Dai no non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Hai sbagliato la cosa più semplice No ma l'hai visto che sono salita nel bordo sopra? E come mi so sporta per cercare di entrare le mie cascate di sotto È un bug Non è colpa mia È un bug No niente è bug E ora? No io questi qua non li capisco proprio Allora premi il bottone hero prima di morire Bravissimo Sei sacrificato poverina Grande hero Poverina E vabbè anche io mi sto sacrificando per qualcun altro No Aspetta E adesso qua Corri Corri e salta Corri e salta Così non mi prende Vai 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 dai dai ce la devi fare Bottone Bottone Torna indietro Salta Sì Bravo Allora Come ti posso aspettare non riesco a capirlo C'è un tastino da qualche parte in basso a destra Forse E puoi diventare sulla difficoltà in cui siamo e ci dovrebbe essere il mio nome Trovato? No È una cosa tipo con gli occhietti Aiuto Aiuto Dei binocoli Sì E poi vai su medium E poi ci sono io Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Così ti vedo E adesso Dai 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 Non capisco Non lo so Aspetta cerco di aiutarti Vediamo la mappa Non lo so neanche Ah c'era un altro bottone nascosto Eh sì vabbè ma dai Dai è impossibile Eh devi Bisogna conoscere anche bene le mappe e capire dove sono i bottoni Troppo difficile Non ci vogliono far vincere oggi Allora sono al secondo del medium Vai vai Sto andando abbastanza bene Voglio la vittoria nel medium Dai che ce la facciamo Siamo Eternal Love Io e Destroyer Andiamo 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 Oh no Che succede? È quella complicata Non l'ho ancora guardata Ah sì Vabbè magari la volta buona che riesce a capirla Che ti devo dire Questa è difficile Ok mi sono ricordato bene perché Dopo che vieni cliccato viene aggiunto questo Ok vai vai Poi bisogna saltare così di lato Salire qua Attivare questo Riscendere e salire da lì Da queste grate E c'è da attivare anche l'altro bottone Fate attenzione lo vedi che è ancora blu quello lì sopra vai Issa 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 Clicco E adesso? Sì vabbè è comparsa la rampa dall'altra parte Oh no Velocissimo Corri devi stare rapidissimo Su ce la puoi fare? Corri con betta di legno Ce la puoi fare Corri con betta di legno Ci sei a livello di tempo vai Ok Sta andando lui a premere il verde? Sì Prenditi quella rampa Ok Vai è fatta è fatta Non puoi sbagliare Ok Ok Sì Bravissimo Vai vai Manca l'ascensore Rapido 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 Find the code to escape Vedi che devi Ah io non lo so L'altra volta li ho provati a caso Che ti devo dire Uno l'ho giocato Ok Vai vai Sì Ho finito il medium Bravissimo Dai almeno il medium è andato Ho finito il medium Yeah 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 Non c'è bisogno di ballare e cantare Scusami Certo Non ce ne è bisogno È il nostro momento Aiuto Anche se questa mappa non me la ricordo proprio Ma neanche io Appena sono entrata Ok aspetta Poi qui Premo Con calma Con calma Ok la cosa per vincere è aperta Ti aspetto lì Dai che ce la facciamo Dai che facciamo la vittoria insieme È giusto sto facendo la strada giusta Sì 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 Ok perfetto Sono qua Ultimo salto Spero di non cadere proprio qua Ok Andata Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Meno male Dai Non mancano solo due Bravissimi Dai 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 Andiamo Questa volta ce la possiamo fare Su 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 Una vittoria insieme la dobbiamo fare per forza Te lo dico Deve essere bellissimo Ok questo è semplice Questo è semplice Sempre lo stesso Ce lo ricordiamo a memoria ormai Velocissima No questo non è semplice invece Perché è facile cadere tramite i salti degli altri Io non so fare l'ultimo di questo Infatti spero che lo rifaccia a Destroyer Perché io cado quando provo ad andare qua sul verde Ok l'ha fatto lui L'ha fatto lui è ormai l'esperto di quel bottone Guarda Ok ce l'ho fatta Dai ne manca uno De che ce la facciamo De che ce la facciamo Questa qual è? Perché ogni volta che ne manca uno compare qualcosa di molto strano Di diverso e strano Che succede? L'avete premuto? Sì l'ho premuto No Ah questa stanza sta aperta Dove? Premiamo questo Questa qui sotto Ah bravo E adesso dovete andare a premere l'altro L'altro Lo vedi? Lo vedi? No 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 Devi saltare Qui Aiuto È comparsa la piattaforma e non ce ne eravamo accorti Ci sono Ci sono ci sono E adesso? Ci abbiamo messo troppo tempo Ora dovevamo salire da lì da quello di legno Attivare l'altro Ma no ma no Ma dai mancava solo qua Fatemi saltare Ce l'ho fatta Ci sei? No Come hai fatto a perdere? Vi ho fatto saltare a voi due No Ah sei stato tu a sacrificarti Sì sì Ma che cosa tristissima La mia testa vi ha portato alla vittoria Spero Che cosa tristissima Almeno vinci Dai almeno dovrei vincere Non lo so Almeno vinci È l'ultimo? Eh sì Adesso dovresti essere al coso Giusto? Ah sì 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 Ok Clicca cose a caso Quando diventa verde quello grosso Vuol dire che hai beccato il codice Ok Devi provare tutti i tentativi No 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 Questo è andato È uno a uno Esatto vai Andiamo Andiamo Ok Dai almeno ne ho vinto un'altra anch'io Ne ho vinto un'altra anch'io È una vittoria a metà Ok ragazzi Per questo video ci fermiamo così Guardate quanti siamo Stiamo facendo un party di salti Per chiudere Un party di consolini Il video Ovviamente fateci sapere nei commenti Se vi piace questa mappa Io l'ho trovata divertentissima È un parkour davvero estremo E mi sono divertito tantissimo Con i consolini È stato bellissimo Anche perché poi era tutta una sfida tra di noi Ancora più emozionante Quando siamo tutti i consolini Esatto Ma prima di finire il video Andiamo ovviamente a salutare Gli altri nostri sei eroi del giorno Che per oggi sono Alice Map Nico Giancarlo Agatha E Mozikawai Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Vi mi piace così Se vi è piaciuto Ci dici un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 a tutti Grazie per la visione!